Buonasera a tutti, vi ringrazio per la partecipazione e vi presento la dottoressa Berego che gentilmente ci fa l'onore di essere con noi questa sera per parlarci di questo argomento abbastanza accattivante e spero che sia interessante sicuramente il teatro greco è un artologico. La dottoressa si è interessata prevalentemente di storia dell'arte e attualmente ha un dottorato a Firenze di tre anni però proviene dal liceo e quindi ha una grandissima esperienza anche dal punto di vista didattico. Ha al suo attivo oltre a diversi lavori sul tema artistico prevalentemente sulla grafica, ha delle pubblicazioni già fatte sull'eco di carta, storia di lecco per immagini, moltissimi articoli poi anche sui disegni, sulle arqueforti e poi in attesa di altre pubblicazioni prossime sulle figure editoriche e linguaggio visivo. Quindi questi articoli appariranno sulla rivista Nuova Secondaria per la scuola secondaria di secondo grado, l'editrice della scuola. Quindi potremo avere occasione anche di leggere queste ulteriori pubblicazioni. Io non durmo molto tempo, visto che siamo già un giochino di ritardo, la ringrazio ancora per essere tra di noi e speriamo di averla ancora accettata prossimamente. Grazie, sono contenta di essere nella città di Torino, io arrivo dalla città di Lecco, dove sono insegnate i lettri del cio classico del paese, ma sono entrate in contatto con questa città per motivi familiari perché adesso è già trasferita qui e quindi poi questa cosa è nata, è un rincontro con il club di cultura classica e quindi sono molto contenta di questo incontro. Nel momento di oggi è il teatro greco un luogo mitico per cui in realtà noi oggi tratteremo il luogo del teatro, quindi l'edificio teatrale e il contesto in cui esso si trova. Non parleremo invece di testi drammatici, che è un altro grande aspetto importante del teatro greco sul quale poi potremo organizzare un altro incontro. In realtà appunto il mio dottorato di ricerca è concentrato proprio su un teatro greco, attico, antico del VI secolo e quindi ho una formazione più archeologica che ovviamente da glicista. La premessa da cui vorrei partire è la seguente, un'affermazione tratta da Baldri, un manuale molto famoso tuttore di museo-università e di ricerca teatro, il quale dice che i poeti tragici creavano le loro opere anzitutto per il teatro e non per la lettura, quindi per il buono. L'occasione, l'ambiente, la rappresentazione insieme alle parole erano tutti aspetti connessi tra loro del risultato globale al quale mirava il poeta. Lo scopo della conferenza di stasera è cercare di suggerirvi questa globalità del teatro cercando di spiegare anche appunto l'occasione, l'ambiente, la rappresentazione in cui avvenivano gli spettacoli teatrali. Il Dipartimento di archeologia di Milano ha censito tutti i teatri greci esistenti nel Pacino del Mediterraneo per un totale di 127 teatri di età compresa tra Sesto, quindi da Alcalca fino all'Ellenismo. Questi teatri sono stati censiti e sono oggetto di studio, vedete che la metà sono ovviamente concentrati in Grecia, anche in Italia, nella Maglia Grecia c'è un numero di teatri sicuramente molto significativi. Questi sono concentrati in particolar modo nel Peloponneso, in Grecia Peloponnesiaca e nella regione dell'Attica. Un numero così elevato di edifici teatralici, quindi 7 sono tanti, quelli archeologicamente documentati, poi bisogna aggiungere quelli di cui non abbiamo ovviamente più reperti archeologici, il numero non parla e già il numero ci dice che l'edificio teatrale era evidentemente un luogo molto importante. Il contesto sacro all'interno del quale sorge l'edificio teatrale è sicuramente significativo. Per noi uomini moderni dal teatro non è un'esperienza religiosa e sacra, ma si può essere culturale, informativa, emozionante, ma non sacrale. L'edificio invece teatrale greco sorge all'interno di un contesto sacro. Vedete, nel plastico è il plastico dell'agropole di Atene che evidenza come la distanza tra il teatro di Dioniso e il partimento che sia molto ridotta in realtà, quindi sorgono vicini. Nell'immagine a fianco, l'immagine a fianco è interessante di questo archeologo americano, Weiss, il quale mette in relazione il centro dell'edificio teatrale dove si trovava l'altare, il centro lo pone all'interno di un contesto sacro significativo. Quindi in questo schema vedete come il centro del teatro, quindi il centro dell'orchestra, costituisca un centro ideale tra l'alità, l'edificio di Dioniso, altri edifici sacri, quindi come il teatro sorgesse all'interno di un contesto sacro. Questo è evidente per quanto riguarda il teatro di Dioniso. Sapete che il teatro di Dioniso sorge all'interno del recinto sacro che delimita il santuario di Dioniso, il Temenos. Questo recinto delimitava l'area sacra all'interno della quale sorgevano dei templi dedicati a Dioniso e l'alità che si è costruito proprio all'interno di questo spazio sacro. Così come vicino all'orchestra vi era un piccolo tempio, il tempietto di Dioniso, tanto vicino che in esso veniva poi portata la statua di Dioniso Deutereo in occasione delle grandi crisi. La statua veniva poi posta di questo tempietto a sorvegliare quello che avveniva nel teatro di Dioniso. Così questo è evidente anche nel santuario di Icaria che appunto è l'oggetto della mia ricerca. Questo è un luogo che si trova in Attica, Icaria è un villaggio che sorge a circa 23 chilometri da Atene, quindi siamo nell'Attica e questo santuario è antichissimo, risale dal VI secolo a.C. quindi è un santuario precedente anche al teatro di Dioniso. In questo santuario come vedete ci sono diversi edifici, tutti posti a distanze molto ravvicinate. Il teatro di Icaria sorge nelle video avvicinanze di due tempi, quindi il tempio di Apollo e il tempio di Dioniso e all'interno del santuario è presente anche una stoa e resti di un monumento collegico. Questo è un luogo importante dell'Icaria perché Tespi, di cui avrete sentito parlare, il mitico, colui che viene retenuto, il mitico inventore della tragedia, della maschera, Tespi, era proprio originario dell'Icaria, quindi arrivava proprio da questo piccolo demo. Quindi appunto stiamo studiando la relazione tra gli spettacoli teatrali del VI secolo in occasione delle Dionisie rurali e poi i grandi spettacoli di Atene in occasione delle grandi Dionisie. Anche in questo santuario ripeto il teatro all'interno di un contesto sacro. Questa è una ricostruzione che vi dimostra la strettissima vicinanza tra i diversi edifici, tanto che la statua di Apollo, quindi posizionata all'interno del tempio di Apollo che vedete nell'immagine, era rivolta, era come se guardasse l'orchestra, quindi distanze ravvicinatissime. È chiaro che il tempio porta significato al teatro, il teatro porta significato al tempio in un contesto sacrale ovviamente significativo. Qui vedete appunto i due templi accostati, è interessante, il culto di Apollo vicino, insieme complementare al culto di Dioniso, vi ricordo che la contrapposizione tra spirito apollino e lo spirito dionisilaco di Niciano Memoria, sicuramente posteriore, mentre nell'età carica e classica i due culti ovviamente convivevano. È stata rivenuta anche una statua di Dioniso nei prese dei periodi di Oniso e quindi che presenta la caratteristica iconografia, quindi una mano che regge il cantalos, che è la coppa di due manici tipica del culto di Dioniso, un torso e poi una testa. Queste parti sono state assemblate da una studiosa che ha dimostrato come se facessero parte di una sesta statua, date le proporzioni tra le parti e l'uso del grandesimo materiale, di un marco del pentelico. I cari infatti sorge vicino al monte del pentelico dove vissone famosi manico che utilizzò anche figlia per le statue della partenone. Così come la relazione tra il teatro e un santuario è evidente anche nel caso di Oropo, siamo sempre in Attica, questa è una fase seguente, il terzo, secondo secolo a.C., un teatro quindi di età successiva, anche in questo caso vedete il teatro è all'interno di un contesto sacro, quindi di un santuario che include anche un tempio, una litare, una santoa e una fonte, vedete la scritta Spring, una fonte da cui svolgava acqua con virtù terapeutiche. Non mi dilungo, questi sono dati che abbiamo raccolto, a testimonianza quindi del fatto che nei teatri attici, che sono stati con l'oggetto del nostro studio, nei teatri, gli otto teatri attici, vicino al teatro, sorgesse di un tempio, quindi vi era un tempio, nella ragionanza dei casi, un tempio dedicato a Dioniso. Sono stati rinvenuti i resti di altari vicino ai teatri dove evidentemente si facevano i sacrifici a Dioniso prima dell'allestimento teatrale. Così come questi teatri erano dedicati proprio a Dioniso e questo è comprovato da epigrafi rinvenute in loco. Altro ambito che abbiamo deciso di studiare è il contesto celeste dell'edificio teatrale, ovvero ci siamo chiesti se l'edificio teatrale avvesse un legame anche con la volta celeste. Questo perché? Innanzitutto perché il teatro è appunto, sembra banale ma non lo è, è un edificio ovviamente aperto, non che i greci non sapessero costruire edifici coperti, ovviamente i templi in primis, ma pensiamo anche all'Odeon. L'Odeon è un edificio destinato ad ascolto, Odeon eppure presenta una copertura. Quindi abbiamo deciso di interrogarci anche sulla volta celeste. È stato possibile ricostruire le volte celesti dell'epoca dell'edificazione dei teatri, è stato possibile ricostruire virtualmente ricorrendo al consulto, all'aiuto, all'ausilio, e alla competenza di un archeoastronomo, perché è chiaro che qui le competenze si mescono, si devono anche confrontare. Fortunatamente a Milano, a Brea, è presente un conservatorio astronomico che ospita l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, dove lavora un astronomo, un archeoastronomo, che ci ha aiutato in questo. Insomma, grazie alle sue competenze, all'utilizzo di un sistema, di un software molto avanzato, è stato possibile ricostruire le volte celeste dell'epoca. Così, questa è la volta celeste visibile nel teatro di Caria, nell'anno 1550, anti-ipotesi di edificazione del teatro, il 27 dicembre. Abbiamo scoperto cose interessanti, perché erano chiaramente visibili delle costellazioni, cioè tra cui la costellazione di Boote, legate ad un mito relativo proprio al sito di Caria. Allora, il mito racconta che ad Caria, di Omiso, fu ospitato da un contadino del luogo, Icario, che lo ospitò e che non lo conoscesse, e Icario di Omiso lo ricompensò insegnandogli la coltivazione della vite. Come ricompensa, Icario poi fu trasformato in una costellazione, nella costellazione di Boote. Cioè, il mito relativo ad Icario, il mito indigeno, presenta un catasterismo. Il catasterismo è la trasformazione, credo li abbiate magari trovati in molti autori, è la trasformazione di un personaggio mitico in una costellazione, a celebrazione, una sorta di ricompensa. E così Icario, Icario, che l'aveva ospitato di Omiso, era stato poi trasformato nella costellazione di Boote. Da lì c'è tutta l'idea, incuriosite, abbiamo avuto, vediamo se poi effettivamente la costellazione di Boote era visibile all'epoca di edificazione del teatro, ed era effettivamente pienamente visibile. Dobbiamo anche pensare che i Greci, del VI secolo, ma anche delle epoche successive, erano grandi conoscitori dell'astronomia ed erano in grado di riconoscere le costellazioni che erano importanti, ovviamente, perché legate anche alla cultivazione, legate alla navigazione. Questo è un nuovissimo, mi piaceva condividerlo con voi, un nuovissimo ambito di ricerca che si sta proprio aprendo in questo momento, ed era visibile anche la costellazione della Vergine, ovvero la figlia di Icario e Rigone, venne trasformata nella costellazione della Vergine. Quindi i personaggi del mito vennero trasformati in costellazioni, e queste costellazioni sono visibili, erano chiaramente visibili, dal 550 a.C. Così il nostro studio, orientato proprio a cogliere il contesto in cui sorge l'edificio teatrale, ha incluso questo nuovo aspetto astronomico, il cane, perché rappresenta anche un cane. Questa immagine non è assolutamente mia, ma è lavorata appunto dal dottor Gaspari dell'Istituto d'Astrofisica di Brea di Milano, è sua questa immagine. Quindi un'immagine che mostra il legame tra il teatro di Icario, le costellazioni, quindi presenti nel mito, e il suo orientamento. Quella sua ubicazione, il suo orientamento, possono anche, non solo, anche avere oltre che motivazioni cultuali, anche motivazioni astronomiche. Il tentativo è, come detto nella premessa, di ricostruire questa esperienza globale dell'edificio teatrale. Anche il contesto in cui avvengono gli spettacoli, sapete che è un contesto sacro, gli spettacoli teatrali infatti vengono restiti all'interno di celebrazioni religiose dedicate a Dioniso. Ad Atene si chiamano grandi Dionisie o Dionisie urbane, nei temi dell'Apica si chiamano piccole Dionisie o Dionisie rurali. Sono feste religiose, ma qui partecipa l'intera cittadinanza, all'interno di queste feste avvengono anche delle rappresentazioni teatrali. Nel caso di Atene, queste avvengono tra marzo e aprile, durano cinque giorni, quindi tanti, cinque giorni, di partecipare i cittadini atenesi, ma anche gli abitanti dell'Alba che si recano fino all'Oco e anche gli stranieri. Sapete che in occasione delle grandi Dionisie, ad Atene venivano interrotte le attività lavorative, quindi chiuse le botteghe, sospesi i processi, i procedimenti legati, aperte le prigioni e quindi detenuti, come sono storiche da sempre dire, avevano un permesso di urno e durante quel permesso di urno si recano a teatro. È la prova che chiaramente la festa religiosa è molto importante, se tutti vi partecipano tanto da interrompere l'attività commerciale, tanto che i detenuti vanno a teatro, la festa religiosa è molto importante e la società commerciale è evidentemente molto significativa. La festa era dedicata a Dioniso e Leutereo, cioè Dioniso che arrivava da Eleutere, Eleutere era una città della Deozia. A ricordo dell'arrivo di Dioniso da Eleutere ad Atene, veniva riportata la statua, Dioniso veniva ricondotta fuori dalla città e poi riportata in città in questa processione evidentemente sacra. La statua poi era posta al centro dell'orchestra che è evidentemente appunto uno e un nuovo significativo come abbiamo già avuto modo di vedere. Nel secondo giorno veniva appunto una processione verso il Tempio di Dioniso che vedeva la partecipazione delle canifole quindi ragazze che portavano ceste contenenti primizie, siamo a marzo-aprile quindi sono i primi frutti e vi erano in questa occasione le famose palloforie. Cioè venivano, come rappresentate nel vaso antico, venivano portati questi falli di legno in questo corteo erano ovviamente dei simboli propizziatori evidentemente di fertilità. Il secondo giorno terminava con il sacrificio di un tono che veniva sgozzato. Il sacrificio avveniva sull'altare posto al centro dell'orchestra. In alcuni teatri si sono conservate tracce archeologiche dei daltari, in altri sono andate diverse. Qui vedete nel teatro di Dero è una ricostruzione che vi mostra come al centro vi fosse l'altare su cui avveniva il sacrificio tanto che poi il coro si disponeva intorno ovviamente intorno all'altare. Il teatro di Dionisio di Atene è stato la storia è complessissima, è stato molto moltissimo rimaneggiato fino in età romana. Noi non vediamo più il teatro originario però questa è una foto che mi sembrava interessante perché al centro dell'orchestra all'interno di questa losanga forse riuscite a vederlo c'è un cerchio insomma c'è un cerchio all'interno di quella losanga che segna il punto in cui si trovava l'altare. È importante sottolineare che i continui rifacimenti quindi dal VI secolo, insomma al II secolo del teatro benché ci siano stati i continui rifacimenti si sia sentita la necessità di segnare archeologicamente quel punto perché quello è il punto del sacrificio quello è il punto dove avviene ovviamente la celebrazione del Dio Dioniso. Come vedete l'aspetto sacro è al centro dell'edificio teatrale. Terzo, quattro, quinto giorno le competizioni grammatiche quindi vengono allestite tre tragedie e un dramma satiresco di uno stesso autore è una competizione come sapete quindi una gara alla fine dell'attore viene programmato un vincitore. Sesto giorno cinque commenti di cinque poeti diversi quindi i cittadini attenesi assistono ai scrittori teatrali per un totale di quattro giorni perché il quinto giorno invece è quello insomma della festa religiosa. La manualisica dice che i cittadini vanno a teatro da Valtramonto e poi i ragazzi si spaventano e dicono che vi è avuto quattordici sedici ore di teatro in realtà non è così perché le ore di luce tra marzo e aprile all'altitudine di Atene abbiamo anche qui fatto un raffacimento virtuale sono non poi tantissime sei sette ore quindi stanno a teatro sei sette ore non è poco però è sicuramente fattibile. Nel settimo giorno i verdetti quindi i giudizi si vengono proclamati i vincitori quindi il miglior collego il miglior tragediografo o successivamente anche il migliore attore scusate e viene anche giudicata tutta l'organizzazione dello spettacolo teatrale di cui è responsabile l'Arconte Eponimo qui l'Arconte Eponimo era responsabile di tutta l'organizzazione della festa del teatro che tutto andasse bene pensate che nel caso in cui qualcosa fosse andato storto esempio tafferugli tra il pubblico situazioni di pericolo che potevano capitare l'Arconte Eponimo veniva addirittura processato altra prova del fatto che evidentemente è un momento molto importante e significativo per la cittadinanza questo è il contesto della festa diciamo qualcosa sull'edificio teatrale dal punto di vista archeologico quando pensiamo all'edificio teatrale greco pensiamo ad un teatro di questo tipo in cui si evidenziano tre parti quindi il koiron o cavea la parte dedicata agli spettatori che seguono nel koiron l'orchestra la parte invece destinata al cono quindi ai coreuti e poi la schenelle l'edificio scenico quello è lo spazio degli attori quando noi pensiamo di edificio teatrale greco pensiamo a questo edificio in realtà nel VI secolo il teatro di Dionis il teatro di Atene aveva questo in realtà aspetto quindi presenta delle varianti innanzitutto l'orchestra non è circolare ma è rettacolare e il koiron la cavea non presenta la classica struttura conchiglia che tutti noi conosciamo e addirittura non aveva quella straordinaria capacità acustica presente ad esempio nel teatro di Epidauro quindi queste caratteristiche sono dei teatri successivi è bene quindi sottolinearlo che dal punto di vista dei testi drammaturgici noi leggiamo i testi dei grandi autori di età ovviamente classica dal punto di vista invece archeologico i grandi teatri dell'età più arcaica sono andati per tutti qui vedete un altro teatro arcaico attico tonico anche questo sesto secolo anche questo vedete che presenta un'orchestra un'orchestra rettangolare ma concentriamoci sul teatro che noi conosciamo ad esempio il teatro di Siracusa vedete il teatro di Siracusa la Grecia Italia regionale in realtà è del quarto è del quarto secolo e questa è un po' la struttura architettonica che siamo abituati a conoscere l'edificio teatrale presenta un'architettura funzionale cioè deve contenere in modo ordinato tutta la cittadinanza il coro gli attori quindi è un'architettura funzionale noi diremmo che presenta le due entrate dall'entrata cedeva il pubblico che poi si disponeva nelle gradinate ma anche i corretti e anche gli attori il pubblico poi sedeva nella cavea non dovete pensare che entravano e poi liberamente sedevano dove dove venivano infatti la cavea presenta a sua volta un'articolazione interessante esempio è divisa in due anelli come siamo soliti in due chiamarli un anello superiore ed uno inferiore è ipotizzabile che ci fosse quindi una distribuzione del pubblico gerarchica nel teatro greco i due anelli sono divisi dal diazoma che in greco significa cintura qui da un anello da una cintura così come ecco qui vedete diazoma del teatro di Epida lo credo sia abbastanza chiaro eccolo qui quindi questo corridoio ampio che separa il teatro in due anni sono presenti anche delle scale delle scale che dividono la cabra in settori poiché i gradoni le sedute sono molto alte sapete che a distanze regolari ci sono invece scalini più bassi e si salvano quegli scalini le scale poi dividono tutta la la cavea e il coelon in settori icerchides qui direi che è evidente questa fotografia questa è una fotografia in cui è evidente la divisione proprio della cavea nei diversi settori allora l'ipotesi più recente è che i settori corrispondessero alle tribù quindi vige la costituzione di Crissene quindi che aveva diviso la popolazione atteniese in dieci tribù e il teatro di Epidauro presenta dodici settori quindi probabilmente dieci destinati alle diverse tribù e alle stranieri in visita quindi questa è un'ipotesi direi piuttosto interessante riguardo al pubblico i numeri sono sempre molto pericolosi però giusto per riferirvi allora si è calcolato che il teatro di Dioniso ospitasse 17.000 persone come è possibile calcolarlo si è calcolato che una persona teatro occupa circa 40 cm a testa e le fonti letterarie spesso riferiscono che il teatro era pieno quindi nel caso che il teatro di Dioniso fosse stato pieno sono 17.000 persone 17.000 persone dico sempre gli studenti è il forum di assago di Tiziano Ferro tanto per il forum di assago di Milano ad un concerto piuttosto affondato quindi tante tante persone di diverso tipo quindi cittadini medici visitatori stranieri schiavi detenuti riguardo la presenza delle donne questa non è sicura perché Platone nelle leggi riferisce che la tragedia parla pubblicamente a fanciulli donne e a tutto il popolo quindi sembra che questa presenza delle donne sia suffragata da Platone in realtà poi in alcuni testi in alcuni testi drammatici quando alla fine soprattutto nelle commedie quando alla fine un personaggio invita ad applaudire sto pensando all'unibus cross di Melandro ad esempio invita giovani uomini e fanciulli ad applaudire non vengono mai nominate le donne dai personaggi e quindi il dubbio rimane sulla presenza delle donne al teatro nel caso in cui avessero partecipato sicuramente accompagnate insieme al marito l'ingresso al teatro aveva un costo di due uri quindi vi era un biglietto un costo questo per sostenere tutte le spese di un allestimento veramente significativo ma per produttare il perecle venne poi introdotto il teoricon cioè un sostegno statale per le persone meno menti quindi che potevano chiedere sussidio insomma statale per andare a teatro altra dimostrazione uno stato che sborsa dei soldi perché il pubblico perché la cittadinanza va da teatro per noi impensabile evidentemente era molto significativo sono stati ritenuti molti esempi di teoricà erano come delle monete che poi venivano rifuse riguardo al comportamento del pubblico dobbiamo pensare che il pubblico al teatro aveva un atteggiamento non completamente passivo e acritico le fonti infatti riferiscono la presenza di fischi schiamati applausi del pubblico che esprimeva il suo gradimento questo ci dice l'attore Teofrasto invece nei caratteri morali identifica delle tipologie presenti al teatro tra cui il villano che fischia plage a sproposito e il fesso che si attormenta quindi un pubblico insomma va piegato sicuramente però un pubblico abituato all'ascolto i greci fruiscono del sapere tramite l'oralità ovviamente l'epica il dialogo filosofico la retorica quindi sicuramente un pubblico anche abituato all'ascolto ma non a critico tornando all'edificio teatrale vediamo una fila di posti d'onore la cosiddetta proedria il primo posto il diritto di occupare il primo posto la proedria sia teatro che in realtà anche ad esempio all'interno dell'Eglesia erano posti riservati per l'autorità religiosa in primis il sacerdote di Dioniso che sedeva nella postazione centrale e le alte magistrature tuttora nei teatri ci sono i posti riservati le prime file riservate alle autorità i parchetti d'onore quindi era una consuetudine che ci fossero questi posti riservati questi sono sedili della proedria del teatro di Dioniso di Atene ripeto ampiamente rimaneggiati quindi questi non sono quelli ovviamente originari questo è il sedile del sacerdote di Dioniso che si distingue dagli altri perché ha le gamme le gamme insomma del sedile come se fosse un zampe e vi sono spesso delle incisioni con motivi dionisi quindi ci possono essere delle menanti o dei tracce di limite insomma che suggeriscono che quello era proprio il posto riservato al sacerdote di Dioniso questa è la proepria del teatro di Icare quindi appunto il teatro d'origine insomma presunta della tragedia e quindi vedete una proepria questa è originaria una proepria della sesto secolo la divisione in settore e la presenza di una proepria dimostra che appunto a teatro sono mantenute le gerarchie della società greca quindi sì una costituzione quella di cristine democratica che però non annulla ovviamente le grandi differenze tra le storie i teti è ovvio quindi tra le famiglie ricche e quelle invece dei nulla tenenti quindi ipotizziamo che appunto il pubblico entrasse al teatro e avesse il suo posto dove recarsi il secondo spazio è l'orchestra quindi lo spazio destinato al coro il coro è formato da 15 elementi entrano in cinque file da tre si posizionano nell'orchestra e rimangono durante tutta la trilogia tragica e il dramma sapiresco sappiamo che in alcune parti interagiscono con gli attori in alcune cani in altri i coreuti sono sedenti i coreuti così come gli attori sono soltanto uomini indossano la maschera tutti i membri del coro e tutti gli attori quindi anche nel caso in cui un coro fosse composto da donne penso le baccanti le baccanti di orribili il coro costituito dalle baccanti comunque i coreuti erano ovviamente uomini entravano nell'orchestra preceduti dall'aurentes quindi dal suonatore di aureos l'aureta che è l'unico che non indossa la maschera l'unico personale perché tra motivazioni pratiche ovviamente personale l'aureta quindi è l'unico l'auretese tradotto un po' insomma così impropriamente come flauto in realtà appartiene più alla famiglia del logo e quindi davanti all'auretese poi seguivano i coreuti che si posizionavano nell'orchestra qui eseguivano anche delle danze di diverso tipo nel caso in cui lo spettacolo rappresentato fosse una tragedia ballavano le meleia e meleia la danza tragica tra l'altro che significa anche armonia quindi una danza coordinata tra i diversi membri del coro una danza solenne nel caso invece in cui lo spettacolo è riscrito fosse una commedia i coreuti danzavano il cordace una danza invece più scopposta più libera quindi non coordinata una danza comica questo lo sappiamo dalle pitture ovviamente vascolari ecco i nostri coreuti una peliche un vaso importante perché ci fornisce informazioni interessanti quindi alla vostra sinistra vedete un coreuta che già ha indossato la maschera alla vostra destra il coreuta non l'ha ancora indossata e la maschera già c'è a terra vedete che le tue maschere sono uguali quella indossata è quella che è quelle sono maschere tra l'altro femminili sotto invece c'è un coreuta che evidentemente è un uomo questo lo vediamo nel personaggio alla nostra destra è intento a indossare anche una una calzatura per quanto riguarda lo spazio degli attori l'edificio scenico dunque la parola schenè sapete che in realtà significa tenda questo perché originalmente una semplice tenda delimitava lo spazio antistante in cui gli attori recitavano e lo spazio interessante in cui si cambiavano indossavano la maschera era una tenda in tessuto questa tenda poi diventa linea poi diventa in pietra e quindi evolve progressivamente fino a formare l'edificio scenico lo studio della scenografia antica è molto complessa mi vido a dirvi che poi viene anteposta alla schede proschedione cioè il proschedione che sta davanti e questo lo so vedete gli attori si muovono tra le diverse colonne simulando anche ingressi uscite movimenti e a un certo poi punto salgono su quello che chiameremo il soffitto del proschedione salgono gli attori sul logheion e quello diventa il palcoscenico il logheion il luogo dove si parla quindi il palcoscenico come noi siamo abituati il palcoscenico elevato è l'evoluzione dell'ogheion che a sua volta è l'evoluzione della schede in un momento successivo sono aggiunte le tavole le tavole dipinte queste costituiscono quello che chiameremo le scenografie purtroppo le tavole dipinte sono andate smarrite sapete che noi dalla pittura greca sappiamo pochissimo anzi direi la pittura greca in realtà è la pittura vascolare chiaramente e quindi queste tavole sono andate poi purtroppo perrete qui vedete nel teatro greco di Priene in Asia minore è direi che evidente in queste immagini vedete il il proscenio quindi si è proprio mantenuto il proscenio con la questa suddivisione in colonne è collato invece il logheion quindi la parte sopra su cui salivano gli attori queste sono ricostruzioni degli edifici scenici del teatro di Dios e del teatro di Segesta sono stati completamente distrutti quando questi teatri vengono romanizzati quindi i romani poi modificano ampiamente l'architettura teatrale che è il teatro poi nel teatro poi avverranno altre altre corno un altro genere di spettacoli un'altra ipotesi ricostruttiva questa volta con le tavole dipinte nel teatro di Priene ecco per quanto riguarda le informazioni sempre desumibili dalle pitture vascolari qui vediamo un attore che tiene in mano una maschera e accanto a lui una merade o baccante riconoscibile perché indossa il chitone risentato lungo e sopra vedete quella pelle da cui avanza una zampa perché la negride è la pelle di cerbiato i cerbiati che le baccante scogliavano quindi abbiamo un attore con una merade una baccante potrebbe forse essere un riferimento alle baccante di Euripide questo è un cratere famoso il cratere di Taranto con questa figura dell'attore che osserva la la maschera sono testimonianze importantissime delle maschere perché le maschere erano fatte di lino o carta pesta posificati quindi di materiali peribili e quindi non è pervenuta nessuna maschera insomma concretamente però abbiamo molte testimonianze indirette altra scena teatrale forse delle baccante quindi una baccante con Laura e Tess una scena invece copica una acrobata che si esibisce davanti a Diolis lo seduto e due vecchi quindi due attori che impersonificano due vecchi con queste con queste maschere un altro trattere interessante perché vedete che questi due personaggi che stanno salendo sulla scala che porta al logheio quindi testimonianze del fatto che recitassero a questo punto infatti il vaso del quarto secolo che recitassero sul logheio dunque per quanto riguarda la maschera viene attribuita all'invenzione della maschera ancora Tespi di Icaria ancora lui prima che Tespi pintasse la maschera gli attori si esibivano davanti al pubblico con la faccia in piastricciata di mosto o benigliata si truccava praticamente questo è condiviso dalla manualistica di storia del teatro del teatro greco appunto le maschere sono rappresentate sui basi greci importante il cratere di Pronomos in cui è rappresentato un attore nelle vesti di Eracle riconoscibile dalla clava chiaramente e un attore nelle vesti di un pappo sileno il pappo sileno è un personaggio del corteo di Olensia o un vecchio che è completamente ricoperto che indossa la pelle insomma di capra il pappo sileno regge una maschera che presenta bravo i capelli le barbe e i capelli erano posticci quindi erano poi applicati insomma alle maschere e le maschere legate al viso da strisce di tessuto vedete la maschera è più grande rispetto al viso il cratere di Pronomos rappresenta una compagnia di attori di un dramma fatiresco sono evidentemente correti perché tutti vedete tutti presentano la stessa hanno in mano la stessa la stessa maschera quindi sono i membri di un evidentemente di un colo ha la testimonianza vascolare un strumento in realtà in cui un attore regge una maschera notare che le fisionomie delle maschere di età classica sono fisionomie marcate sicuramente perché devono essere visibili anche dalle persone sedute su una cavea però non sono ancora deformate si deformano successivamente non manca la maschera di Dioniso di cui poi diciamo qualcosa in realtà sono state ripenute anche maschere di terracotta a Libari qui è stata condotta una campagna archeologica molto importante da un archeologo italiano famosissimo Berna Bobrea che negli anni 50 ha scavato in tutte le isole eolie e anche nell'isola di Libari e ha rinvenuto una necronopoli che poi è stata ricostruita all'interno del museo archeologico di Libari che poi ha dato il nome a Bernaboria all'interno delle tombe rinvenute a Libari erano presenti maschere di terracotta allora non sono le maschere utilizzate evidentemente nel teatro sono ripostituzioni delle maschere teatrali però che facevano parte di corredi funebri però sono testimonianze importantissime pensate le uniche al mondo queste sono le uniche maschere di terracotta che risacono all'età greca e Berna Bobrea ha fatto un'operazione molto importante cioè ha ricondotto tutte le maschere alle tipologie dei personaggi del teatro quindi sia della tragedia che della combina e ha poi dato dei nomi qui li vedete in traduzione ma i nomi sono veloci e identificano proprio il personaggio quindi abbiamo la maschera della giovane per bene vedete appunto una fisiormia marcata ma non deformata la bocca grande ovviamente per consentire una per consentire la recitazione insomma tre varie la maschera del serbo principale è un personaggio importantissimo nella commedia e poi lo sarà tanto più nella commedia latina ecco qui è chiaro come si deformano vedete questa è una maschera greca già ovviamente grottesca il personaggio è comico guardate in età poi è dell'istica proprio si caricano vengono accentuate la maschera della vecchia domestica insomma sono tanti io l'ho portato un po' giusto per mostrarle del secondo nonno perché le personaggi anziane sono due ecco le maschere custodite nel museo ma anche la maschera della Core ovviamente la brava la brava ragazza altre maschere sempre invece più deformate questa è la figura dello straniero ad esempio e poi ci sono le maschere romani ovvero sono state ritenute delle ville romane delle maschere che venivano semplicemente appese da pareti come elemento ornamentale sono testimonianze preziose anche del teatro greco con il quale evidentemente condividevano una certa iconografia così ad esempio queste sono custodite del British Museum in una foto pessima fatta da me da vetrinetta allora questa è la maschera vedete è insomma la versione romana della maschera della Core che questo mi sembra abbastanza evidente quindi diventano semplicemente oggetti di di arredo oppure mascheroni nonni rinvenuti nel teatro di Atene risalenti in realtà all'epoca romana non mancano maschere sui sarcofagi sui sarcofagi di età romana qui abbiamo Italia la mosaica del teatro che regge la maschera del sero furbo direi ricorda molto la maschera del sero le maschere sono rappresentate anche nei mosaici romani questo mosaico insomma direi forse il più famoso nei musei capitolini di Roma questa è diventata un po' di colografia classica cioè la ragazza la core è la figurazione della tragedia dall'altro lato invece il il serbo tra l'altro un po' di orisiaco ovvero perché c'è il traccio di vite grappoli di tuva rappresenta la commedia questi sono diventati un po' i due simboli dei due generi generitarici e questa invece è la deformazione vedete sono i caratteri delle nastri sono deformati nei mosaici delle ville delle ville romane tornano i stessi personaggi guardate la core a sinistra lo soraniero di carnagione scura il personaggio dello xenos e poi ancora il il furbo Brescia a Brescia sono state recuperate queste ville che è stato recentemente insomma reinaugurato il museo archeologico e queste ville nei pavimenti sono raffigurate delle maschere semplicemente con valore non a metà nelle affrezze che i romani sono riferimenti al teatro in questo famoso affrezco proveniente da Pompei è presente un attore è raffigurato un attore in un momento evidentemente di raccoglimento in un fuoriscena al quale viene portata la maschera tra l'altro di un personaggio femminile oppure ancora la maschera un po' veramente inizia che hanno portato molte vado un po' veloce oppure la maschera posizionata addirittura sul lo gay on quindi la maschera sul parcoscenico maschere presenti anche nella casa di Augusto sono maschere un po' irritanti si affacciano degli strani personaggi da queste finestre con queste maschere un po' irritanti eccola la maschera tragica femminile completamente deformata lontana dalla maschera tragica greca queste invece maschere dipinte come se fossero appunto appese riguardo i costumi sappiamo un po' pochissimo quindi il chitone corto nel caso in cui un personaggio fosse maschile ed un eroe il chitone lungo serviva anche per mascherare braccia maschili muscolose e ovviamente gambe maschili nei casi in cui le città saranno un ruolo femminile il chitone pesettano il chitone con la nervide appunto tipico della vaccante e infine la clamide abbiamo poche testimonianze anche sui vasi torna ancora il cratere di pronomos quello che prima abbiamo visto con le maschere qui è presente evidentemente un attore che indossa un lungo chitone decorato quindi probabilmente i costumi erano decorati colorati anche il costume insieme alla maschera consentiva il riconoscimento del personaggio anche a grande distanza una scena di commedia o di musici ambulanti un'altra scena con attore ecco in merito alla recitazione allora la recitazione è basata sulla capacità vocale tanto più nei teatri arcanici che non erano dotati dalla straordinaria acustica presente nel teatro di Pitalo quindi una voce chiara potente che si sentisse da lontano con una dizione precisa una voce che recitasse con e senza accompagnamento musicale l'attore recitava voci femminili maschili di giovani e la voce è la condizione della recitazione tanto che sapete forse la lì tutto soffo quindi rinunciò a fare l'attore perché non aveva una voce sufficientemente potente quindi la capacità vocale è un invece pregiudizio pensare che la recitazione nel teatro greco fosse completamente eratica no? ferma vocale non è così vi erano gesti suggeriti dalle battute cioè nei testi teatrali i greci mancano completamente le tascalie cioè se Riccardo legge un testo con le tascalie le tascalie sono poste dal traduttore perché nel testo tragico non ci sono le tascalie questo non vuol dire che le parole non suggeriscano dei gesti anzi ci sono parole che suggeriscono abbracci è vero simile pensare che i datori si abbracciassero personaggi che si crossano è vero simile pensare che si inginocchiano cioè la gestualità è suggerita dalle battute così come le battute le parole suggeriscono anche la proscenica ovvero il movimento degli attori nello spazio infatti ci sono riferimenti entra nella reggia esce dalla reggia va incontro ad altri personaggi quindi dobbiamo pensare che si muovevano all'interno di questo spazio detto questo sicuramente non è la recettazione ma come siamo abituati noi perché la maschera è un grande impedimento io ho avuto modo di assistere a minare un rifacimento di dusco lo stiminantro ad una messa in scena con la maschera è abbastanza non dico fastidioso per un termine brutto però la maschera incide sulla gestualità sullo sguardo su tutti i movimenti che sono lontanissimi dal nostro gusto così anche Aristotele della retorica riserva parole di ammirazione per la straordinaria naturalezza della recettazione di Teodoro un autore quindi se Aristotele elogia la naturalezza di Teodoro evidentemente la naturalezza era apprezzata adesso fioriscono questi studi alla ricerca della gestualità della prossemica presente nei testi nei testi drammatici e veniamo a Dioniso che è un po' rimasto sullo sfondo il Dio del del teatro un Dio molto molto complesso a te che sei tutto e di tutto l'estremo contrario non è facile elevare il canto per i molti tuoi doni e gli insondari avessi tra cui ti nascondi quindi Dioniso è tutto e l'estremo contrario è una divinità molto anche complessa questo vedete che dalla nascita di Dioniso che nasce due volte come è raccontato appunto nelle nelle baccanti allora vediamo qualcosa allora Dioniso presenta anche un'iconografia duplice questo è interessante cioè viene racfigurato sia come giovani in verbe esempio da fitia nella statua del partenone di attirire questa questa è la nota statua del frontone del partenone quindi sia giovane che vecchio quindi oggi si è rappresentato anche come vecchio barbuto in questo caso che regge il cantano quindi come l'inizio dell'inizio della vita quindi la giovinezza la forza la forza e poi anche in realtà poi il traponto la linea dell'esistenza umana anche i suoi attributi iconografici sono interessanti esempio legati alla musica un attributo è appunto il tupalon il tamburo che vedete qui quindi nei riti chionisieci veniva suonato il tupalon che era quello che corrisponde più o meno adesso lo chiamiamo vulgarmente poi io sono esperto musicologa il tamburello suonare per intenderci quindi è accompagnato dalla musica un'altra immagine di menate con tupalon altro strumento il cumpalon quindi il cemalo cemalo il metallo insomma qui si sono conservati quindi che venivano battuti quindi ancora questo elemento sonoro l'aulos che veniva suonato sia dall'auloteza all'ingresso del coro ma anche all'interno della dimensione simposiaca quindi nel simposio dove si beve il vino evidentemente si celebra si celebra di odison poi abbiamo il tirso il tirso è questo lungo bastone che vedete in questo caso retto da una menade in cima veniva posta una pigna sulla quale venivano legati sonagli e poi il tirso veniva quindi agitato in occasione dei riti di odisonici quindi anche il tirso è una sorta di strumento musicale ha un elemento il suo colteo il tirso di odison che è entrato in questo rilievo di odison arriva in casa di Icario in antica quindi il vecchio abbiamo il vecchio di odison barbuto corpulento retto addirittura da un bambino che lo sorregge e poi dietro un altro ragazzino che regge il tirso dietro di lui il papusileno che suona l'aurosto e poi figure danzani questo è il corteo teonesiaco in cui ovviamente si festeggia e si suona la la musica un altro passato significativo delle baccanti sono veramente una tragedia di unis di anche un accento di unis e forniscono moltissime informazioni e in questo strancio ci sono proprio riferimenti al tirso beato chi vive nella grazia di un dio e conosce i misteri divini beato chi santifica la sua vita e consacra l'anima di chieso posseduto da barco sui monti nel sacronito purificatore beato che celebra il culto della grande madre civile e scontendo di tirsi un coronato d'edera si fa sempre di odio qui tutti 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 questi elementi tipicamente etionizi si fa riferimento anche all'edera di cui mi sono dimenticata perché l'edera posta a macerare nel vino assumeva un valore psicotropo quindi allucinante insomma allucinogeno e quindi veniva usata anche l'edera quindi come vedete la musica il vino il teatro sono strumenti che portano altrove cioè il teatro porta ad un'altra dimensione alla dimensione appunto di una storia rappresentata sull'ascena lo spettatore entra in un'altra dimensione la musica anche la musica ha questa grande questa forte componente emotiva questa straordinaria capacità di condurre altrove il vino anche se accusato ovviamente conduce all'edrezza o addirittura ovviamente allureacchezza e il dio Dioniso presenta anche la maschera idolo ovvero nei riti dionisilaci la presenza di Dioniso era evocata proprio in questo modo ovvero prendevano un palo lo rivestivano con delle vesti e in cima volevano una maschera dionisilac una maschera dalle fattezze di Dioniso in questo modo questa diventava una sorta di statua diremmo una statua idolo che veniva appunto celebravata sono presenti i riti dionisilaci in molti vasi nei cosiddetti vasi dell'Ene in cui sono rappresentati questi riti quindi Dioniso viene evocato attraverso la maschera e quindi è chiaro un passaggio poi alla maschera del teatro utilizzata in occasione delle feste dionisilache altri vasi qui la maschera è posta semplicemente su una colonna una una maschera ancora dionisilaca sopra un palo vestito intorno guardate è presente la menade che suona che suona la rossa e il tirso in occasione delle feste queste le che erano altre feste dionisilache che si celebravano nell'enaio la palume in una zona della palume di Atene e in occasione di queste feste avvenivano delle rappresentazioni teatrali poi nel sito di Icari è stata rinvenuta questa 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 testa che avete già visto nella statua che vi ho mostrato precedentemente e lo studioso Cherelli che è autore di un testo insomma chiamato di Omiso fondamentale ha ipotizzato che questa testa fosse in realtà la versione pietrificata di una maschera linea di unisilache Cherelli sostiene questo in base alla fisionomia di questa maschera ad esempio che presenta questi occhi come se fossero insomma delle fessure è soltanto un'epotesi però sicuramente molto molto suggestiva e così l'indo omerico svela un po' la complessità di questa divinità tu della vita ci conduce ai confini dove la nera soglia delle tue grandi pupille ci invita con riso dolente ad inoltrarci in oscuri sentieri che non hanno un ritorno se la dolce promessa del tuo eterno rinascere non ci affaga più amica questa divinità presenta caratteri legati alla morte legati anche alla nascita aspetti legati alla celebrazione della vita della gioia il corteo il tieso la musica e caratteri rinvitanti anche perché la maschera la maschera è un oggetto veramente rinvitante perché la maschera vela vela un'identità e poi la maschera quando si toglie la maschera e si si appoggia diventa veramente un un vuoto con un tenitore che evoca una attenzione cioè i maschera sono veramente molto molto inquinanti sono oggetti misteriosi e quindi Dioniso è effettivamente il dio del del teatro e questa è un po' la conclusione ovvero torniamo alla premessa ancora con Valdri un testo fondamentale semplice inteso come elemento positivo e Valdri dice l'esperienza globale del teatro greco che cerchiamo di recuperare è un'esperienza unica eppure noi dobbiamo inevitabilmente trattarla analiticamente una parte distinta dall'altra osservando una faccia dopo l'altra l'unico punto essenziale è che tutti gli elementi erano strettamente connessi tra di loro e devono essere giudicati nel loro reciproco rapporto insomma l'analisi deve essere solo il preludio alla sintesi una ricerca che abbia come oggetto il teatro greco come quella che sono intanto di fare è una ricerca inevitabilmente multidisciplinare perché coinvolge l'archeologia dell'edificio teatrale il mito diorisiaco che non è solo la storia dell'arte l'epigrafia il testo drammatico addirittura l'arte astronomia cioè sono aspetti per cui si vengono coinvolte diverse competenze è impossibile che una sola persona ne abbia infatti fortunatamente di questo sono molto contenta è un lavoro di equip in cui queste competenze entrano in contatto e danno valore ai risultati rafforzano i risultati uno dell'altro e allora il tentativo è proprio quello di ricostruire questa esperienza globale che sicuramente fu unica un'esperienza unica io direi addirittura nella storia dell'umanità un'esperienza sicuramente unica e concludo insomma in questo modo sperando di avervi semplicemente suggerito così un'idea di di complessità vi ringrazio spero di essere stata sufficientemente chiara molto grazie 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 tutti grazie grazie Grazie.